La provincia di Pordenone è la prima provincia in Italia che ha lanciato una campagna importante sulla mobilità sostenibile che prevede l'utilizzazione di autovetture, anzi di quadricicli elettrici che vengono dati a disposizione dei cittadini e li utilizzano gratuitamente. I cittadini lasciano le loro auto nei parcheggi in scambio, poi utilizzano questi mezzi che viaggiano gratuitamente all'interno dei centri storici e nelle zone a traffico limitato nelle prime due ore e dopo con un piccolissimo contributo. L'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'utilizzo dei combustibili e delle fonde di combustibili alternativi e quindi serve a creare anche una cultura della mobilità sostenibile e del risparmio energetico. A corredo di questo vi è stata un'indagine di mercato sempre sviluppata dalla provincia di Pordenone, la quale mette in evidenza come questo progetto piace moltissimo, soprattutto ai giovani e alle donne, ha un alto grado di conoscibilità ed anzi è auspicabile nell'immaginario di tutti che questo progetto poi venga anche realizzato anche da altre amministrazioni.